Ci auguriamo almeno che il primo cittadino riesca a fare da intermediario con l'ente Regione Abruzzo al fine di aiutarci esattamente come è stato fatto per i colleghi dell'Aquila. Noi chiediamo soltanto questo perché facciamo lo stesso lavoro, anche noi abbiamo famiglie mutui da sostenere, figli, studenti e quant'altro, quindi ci auguriamo che qualcuno ci diene una mano. A nulla è servito il lungo tentativo di conciliazione delle organizzazioni sindacali che in relazione alla disdetta unilaterale del contratto aziendale da parte dell'impresa hanno aperto un'avvertenza sul mancato riconoscimento dei lavoratori di oltre 300 euro mensili. Per questo i lavoratori della Panoramica questa mattina hanno dato vita a uno sciopero di 4 ore sotto il Palazzo Comune a Leacchieti perché ritengono scarso l'impegno della politica locale e regionale nel tutelare gli interessi dei lavoratori. Ci sono delle accuse molto precise da parte di chi amministra la Panoramica che ha messo sotto accusa sia la politica precedente, la politica regionale della precedente giunta regionale che sia quella attuale non capiamo per quale motivo da nessuno sia arrivata una replica all'imprenditore. E come se non bastasse alle pesanti penalizzazioni retributive si sono altresì aggiunti l'aggravio del carico di lavoro per effetto del riacorpamento di corse conseguente alla diminuzione di turni e la cancellazione definitiva di diversi posti di lavoro e di corse negate all'utenza teatina. Quindi al danno si è unita la beffa e non riusciamo più a tenere buoni gli animi dei lavoratori che escono già fiaccati da un periodo di casse integrazioni e restrizioni. Oggi non riusciamo più quindi ad assicurare che i toni rimangano in quello che noi speriamo essere il perimetro legale. Se le cose non dovessero cambiare i lavoratori della panoramica insieme alle sigle sindacali sono pronti a tornare in piazza, questa volta sotto i palazzi della regione per uno sciopero di 24 ore. Noi abbiamo cercato di far capire la politica cittadina e la politica regionale che il loro compito è quello di ascoltare anche i bisogni dei cittadini, dei lavoratori. Cosa a cui sono venuti meno o almeno sono venuti meno in questa città perché nelle altre realtà invece continuano ad aiutare, continuano a sostenere perché i politici delle altre province si fanno valere in regione. Da qui da noi abbiamo una politica di serie B e dei cittadini di serie B.